Il Natale per questa causa riceva il pericolo di Buon Natale. Insomma, Buon Natale veramente a tutti voi. E quindi, allora ci siamo, io a questo punto vorrei che la seconda parte di questa canzone, che fossero aperti anche i microfoni, di Massimo Caputi, Marco Mazzocchi e Giulio Scarpati, perché voglio chiudere insieme a tutti, anche gli autori, tutti quanti, il pubblico, perché è una canzone di Natale, secondo me, poi a me ricorda veramente i Natali in cui avevo degli ideali, sono sincero. Ah beh, ce l'hai ancora. Ma che me frega, a me è il primo che mi ha pagato, io sono fatto, se volete far convertito ricevi questi, ma io sono sempre stato avanti, veramente, ma io lo dico a tutti, io non me ne sono mai schierato, io sono sempre stato per il governo, ho fatto bene a non cascare il governo, che andiamo avanti, bisogna mantenere la stabilità, se poi invece cambia il governo, io sono proprio l'opposizione, io sono qui, ragazzi, manchiamo, viva la Portadella, questo è il mio messaggio natalizio. Buon Natale a tutti. Allora io passo sul colo e vi faccio il segno io. Esatto. Allora attento che Mazzocchi quando canta può distruggere qualsiasi canzone. Sei sicuro te la facciamo? Sì, sì, la canzone di Ritornello la sapete, Ritornello arriva tra un po', vi faccio il segno io. Allora tieni chiusi prima di Ritornello, se no Mazzocchi è il segno. Non è meglio, vorrei che mi facessi la prima. Quattro, due, tre, forno. Allora tieni chiusi prima di Ritornello, se no Mazzocchi è il segno di Ritornello, e rando, s-spaniale gigante. Allora tieni chiusi prima di Ritornello, se no Mazzocchi è il segno di Ritornello, f Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti